o raga ma vi rendete conto che siamo in giappone forse non è ancora molto chiaro per me questa roba siamo a tokyo non siamo soli con noi c'è la pami e mike di rose guardatelo seguitelo raga lui fa le live su twitch sempre in irlo dal giappone e questa ragazzi è una pov dove voi vedete quello che noi vediamo fondamentalmente giusto e questo qua me l'ha detto bob di portarlo io vedo qua cosa vedono loro e devo dire che loro vedono bene tra l'altro quell'auto stabilizzatore sembrerebbe anche tutto molto fluido pulito interessante ragazzi è freddo a tokyo no ragazzi devo dirvi che non fa assolutamente freddo anzi la temperatura è veramente buona e qua cos'è che vendono no che cazzo dici questo è il classico onigiri veramente questo a tonno e maionese è buono è buono e prendiamolo no ma sono tipo cipo sono buoni secondo te nel senso buoni no 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 sono qualità prezzo uno dei migliori che ci sta perché sono sia costano poco ma sono anche buoni questo qua ragazzi il più buono in assoluto ho preso il pollo fritto abbiamo il bastone dei selfie della camera sono tipo 6 euro non lo so quanto abbiamo pagato 6 euro circa galera maiala questo è umidone però eh signori ecco ecco signori tentiamo di pescione puttana eva sa di pescione veramente ma è questa maionese a minca raga questo è buonissimo ma poi mi piace questa roba qua raga maic ci ha portato in un quartiere dove praticamente si mangia fondamentalmente il maic ha già provato i dorayaki mi sa che con lui non li abbiamo ancora provati raga dovrò capire dove trovarli innanzitutto perché non ne ho assolutamente idea ora che ma vi vedete conto che siamo in giappone forse non è ancora molto chiaro per me questa roba visto qualcosa di bello one piece veramente qua c'è la storica rivista jump ah è storica e a me è settimanale weekly è dove escono tutti i manga più famosi del mondo aspetta qua c'è una signorina coniglia però questo perché? zen questo qua è un posto foto alla conigliata lo facciamo raga ah qua ci sono le signorine di facili costumi raga quasi sono le signorine che fanno cose strane guarda che robetta porca barata welcome to urwash gentleman club dai ho capito le signorine che fanno cose dai abbiamo già capito raga ma come tutti dentro raga non possiamo entrare dentro ragazzi mi banno lo twitch non non si può fare lei non dica purtroppo che è sposato mi scusi cosa sta dicendo impazzito no purtroppo purtroppo twitch non permette di far vedere chiaro se la moglie di mike sta guardando in realtà non è lui che parla quindi non si preoccupi non c'è problema non sapete che nei prossimi giorni andremo anche nel quartiere dove ci sono tutti i videogiochi giusto che è akibara akihabara akihabara guardate questo palazzo raga assurdo eh raga ma che roba permesso è un brand ok tutta roba figa qua in giappone cazzo cioè dire che oggi noi ragazzi arriviamo da 14 ore non stop di viaggio arrivati abbiamo preso il treno un'altra ora e 20 di treno poi siamo arrivati all'hotel abbiamo beccato subito il mike quindi siamo un attimino incastrati anche come attento lì senza pausa no senza pausa ma di queste low kitty enormi al secondo piano ma quindi si alle 20 è chiuso peccato raga andremo a vedere nei prossimi giorni qua c'è una low kitty vuoi fare la foto con low kitty dalla faccia vai assurdo pensare di essere un'altra parte del mondo assurdo 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 questi qua raga sono dei posti tipo i nostri vlt però come vedete loro qui hanno questa concezione di ficcare dentro le palline in queste macchine un po strane guarda che roba porca troia per da mike è assurdo orco boia e ramenino e golosino è merda le piace l'ordine la pulizia d'oriente rispetto alla spursità che c'è da noi ma se devo essere sincero ragazzi è molto pulito qua è molto pulito non dappertutto non dappertutto però mi piace molto mi piace mi piace c'è poco da fare cazzo raga guardate che roba cazzo che sono fighe eh c'è un profumo di griglia notevole guardo le macchinette cazzo vendono le robe particolari questo non so cosa quale orco cazzo buona foto amo su sta via te la faccio guardate questa vietta raga porca puttana harry potter è questo questa è palesemente la brutta copia di harry potter di assai merda qua 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 io credo che non siano molto contenti quelli degli studios di una roba del genere guardate che roba raga lì c'è scritto che non potevi portare ma lì c'è scritto che non potevi portabottiglie fantastiche sedie fatte ricavate dai portabottiglie questi qua sono ma ci stava sono quelli giù porca puttana anche i tavoli fatti con i portabottiglie raga sembra di essere un videogioco raga merda detective conan la sorpresa quella sorpresa è certo io prendo questo con la sorpresa e tu che ti prendi ma c'ha il regalo dentro fa freddo no ragazzino è freddo amo io sincero non tocchiamo i 20 gradi non sono neanche 15 però qua siamo secondo me sui 17 18 gradi 17 forse non fa assolutamente freddo raga stare qua tranquillamente come al sud domani sono in pantaloni corti raga i pantaloni lunghi perché abbiamo fatto il viaggio e tutto quanto quattro paia di pantaloni corti mike grazie è stato un piacere che abbraccio seguitelo perché è veramente un grande grazie a te grazie per tutto ci sentiamo in questi giorni poi per il ritorno certo signori la nostra stanza di hotel questo è un quattro stelle la nostra stanza di hotel raga signori è questa cioè capite doveva dormire io fai vedere il bagno aspetta vi faccio vedere una cosa raga guardatevi si potete lavare il culo questo qua è il coso che ti lavi il culo questo costa mille euro ragazzi mille euro allora detto questo ragazzi io vi faccio la buonanotte vi mandiamo un bacio grande buonanotte ragazzi grazie di essere stati in nostra compagnia ci rivediamo per voi domani mattina alle otto e mezza a solito orario della live ciao ragazzi